Musica Today is the day Eccovelo qui raga Non dico più nulla What the heck Bellissime queste skin di Halloween Fantastiche Bella ragazzi io sono Martex Bentornati su un nuovo video di Fortnite E cosa c'è scritto lì in basso a destra A tempo di inattività programmato Zuzu pubblicità fortignana Ma Martex ma sti spray dove l'hai presi Innanzitutto ciao brother Allora sono dei codici che possono essere utilizzate Più o meno cento e più volte Facciamo così Ma non c'è modo di prenderli Cioè posso prenderli anch'io Dai se me lo dici ti giuro te lo prometto vado subito a mettere il tuo codice creatore GKR Martex Va bene dai allora brother Ti credo devi andare sulla pagina twitter del creatore di questi spray Quindi dell'artista Ogni totore sinceramente non so quando ne posta un tot tramite tweet E da lì poi te lo copi e te lo incolli all'interno del tuo account di Fortnite Quindi vai sul sito di Epic Games Inserisci le tue credenziali E-mail e password Ti loghi Clicchi sul tuo nickname E poi riscatta codice Come si fa con tutte le altre skin E poi se proprio lo vuoi sapere le ho messa ad inizio il video giusto per flexare un pochettino Ma fleccati sto c***o Uuuuuh Non c'è più la rispettazione di un tempo Il periodo di interruzione di servizio per la patch 11.01 Quanto è strano leggere questo numero Inizierà alle 4 Eastern Time Ovvero alle 10 del mattino Cosa conterrà questo aggiornamento raga Non ne ho idea Comunque lo scopriremo perché sarò in live Non preoccupatevi raga perché so che la maggior parte di voi è a scuola Però nel momento in cui tornerete a casa Passate per un saluto e vedrete un pochettino che cosa sarà successo Comunque dato che l'abbiamo già svelato raga Rieccovi questo shop No è bello, è bello, è molto bello Non c'entra nulla con il periodo però raga Abbiamo di nuovo i baschettari Non uscivano dal 31 maggio scorso Quindi sono passati ben 144 giorni dalla loro ultima uscita nello shop Io ho scelto subito lei raga La skin femminile 1200 V-Bucks per entrambe ragazzi Sono favolose Tutte e due davvero molto belle Il piccone ed il glider un po' così Però Bello sto sound Anche se all'inizio sembra Non lo so il piccone di Doggo Vabbè Il deltaplano No vabbè così è fantastico raga Addirittura epico Oggetti giornalieri Un emote da 800 Calcio da accovacciati Che non usciva da 90 giorni più o meno Poco la skin glow raga E va bene Avvoltoio ma raga Ma questa skin è uscita 10 giorni fa 10 giorni fa è uscita il 12 ottobre Non ha senso Epic Non ha senso Extraterrestre meno di 30 giorni fa Oggi sto facendo il calendario raga Il calendario delle skin Palleggio stessa cosa per le skin Oh Ok Era rimasta un po' che Va bene raga Stavo dicendo raga Non usciva come le skin Ovviamente da 144 giorni Anche questi mod Fenix Sì Molto bella come skin Ma perché non la utilizzo mai Perché E questo me lo chiedo anche per tante altre skin Fieno Così Droppata a caso Va bene dai Abbiamo fieno oggi Di solito esce con quelle due skin bellissime Dei contadini Quindi di Landeletali Ex Landeletali E si va ad accostare a quel bellissimo piccolo girasole Anch'esso da 200 V-Bucks Pipistreller raga Madò Ma sto delta plan è fantastico Dai 800 V-Bucks Continuiamo Oh Asmodeus E poi Callisto 1200 V-Bucks raga Ovviamente Preferisco lei Ma è ovvio ragazzi È talmente ovvio che Non lo so L'ho scioppata subito 1200 V-Bucks Tutte e due le skin Lei però si presenta con uno stile aggiuntivo Quindi porta questa bandana Oppure raga Potete non selezionarla Il piccone con la doppia mazza da baseball Chiudata 800 V-Bucks E ascoltiamo Pesante Ma non troppo Vabbè questo l'abbiamo già fatto vedere Pipistreller Tornato anche 100 euro estremo Una skin da 800 V-Bucks Che apprezzo Un po' sporca Direi ragazzo Vaglio a lavare sti pantaloni Ma anche la pettorina Procediamo Ok Sto backpack No 200 V-Bucks Non ci sta raga Non sulla glow Ma credo che non ci sia su tantissime altre skin Ultimo item del set La moto acrobatica Eccovela qui Molto simile ad altri d'altaplani Bello sto rombo 800 V-Bucks Però Per me è un no raga Cioè Non li utilizzo questi d'altaplani Sono proprio il tipo da ombrelino semplice Qualcosa del genere Ma abbiamo già mostrato tutto raga È finito già lo shop Vabbè Come sempre raga Vi ricordo che potete supportarmi Cliccando qui in basso a destra Su supporto un creatore E digitando al centro della schermata Il mio code JKR Martex Tutto attaccato Maiuscolo minuscolo È uguale Cliccate poi su accetta E ricordatevi di Aggiornarlo Ogni 14 giorni Io spero che comunque Questo video vi sia piaciuto E che soprattutto Vi abbia tenuto compagnia Se così fosse raga Mi raccomando Lasciate un bel like Condividetelo con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti E vi ricordo che Questa degli spray È solamente la prima wave I giveaway poi ci saranno Fino al 29 ottobre Per i primi due spray Da inizio novembre Invece saranno disponibili I nuovi spray raga Comunque vi comunicherò Tutto tramite video Noi ci becchiamo tra pochissimo In live per l'aggiornamento Oppure in un prossimo video Un salutone da Martex Sia Pieders